Coronavirus e 7 incontagiati, 2 in nuovi casi di contagio emersi nel fine settimana. Si tratta di un 19enne basso polesano e di una 70enne adriese. Le condizioni di entrambi sono stazionari. Per uno dei positivi ricoverati invece nel fine settimana c'è stato un peggioramento. È stato spostato in terapia intensiva ma le sue condizioni ora sono stabili. Padova bloccata via i controlli. Sono partiti nel pomeriggio i controlli sul ponte di Boara che collega le province di Padova e Rovigo. Le forze dell'ordine controlleranno le persone che si spostano da una provincia all'altra per verificare che lo spostamento rientri in quanto stabilito dal decreto entrato in vigore ieri 8 marzo. Decreto antivirus e le interpretazioni. Nel tardo pomeriggio di ieri il prefetto Maddalena De Luca ha accolto nel palazzo del governo di Via Celio una delegazione di sindaci, i comandanti dei carabinieri, della finanza e il questore per illustrare loro quali siano le interpretazioni del decreto del Presidente del Consiglio Conte sulle norme di contenimento dal coronavirus. Sì agli spostamenti di persone e merci da e verso Venezia, Padova e Treviso per motivi lavorativi e cure mediche, purché lo spostamento sia ridotto al minimo, ovvero al tragitto casa-lavoro e viceversa. Prelievi e analisi solo attraverso il CUP. L'azienda Ulse 5 Polesana informa che da domani l'accesso ai punti prelievi aziendali sarà possibile solo attraverso prenotazione. Gli utenti possono quindi rivolgersi al CUP. Accesso senza prenotazione garantito ai pazienti inseriti in un percorso diagnostico predefinito come la terapia anticoagulante orale ed emocromo per chemioterapia. Il nostro modello funziona, continuiamo così. Un grazie a tutto il personale della sanità che sta lavorando incessantemente. Il nostro territorio e nella nostra provincia in particolare, la situazione è meno problematica rispetto ad altri territori. Questo ci fa capire che la strada che abbiamo intrapreso per far fronte all'emergenza è quella giusta e sta dando risultati. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a prestare la massima attenzione adottando tutte le precauzioni indicate dalle autorità. Questo il messaggio lanciato dall'assessore Corazzari questa mattina in Cittadella Sanitaria. La responsabilità è di ciascuno di noi. I 50 sindaci del Polesine hanno condiviso una lettera dove invitano i cittadini a rispettare le misure igienico-sanitarie prescritte e a comprendere la necessità di un comportamento responsabile non differibile per il bene di tutti. Cari concittadini, vinceremo anche questa prova. Auguri donne, siate audaci. Una carellata di auguri per tutte le donne rodigine e non solo. In occasione della giornata internazionale della donna, Erika Alberghini, assessora alle pari opportunità, Mirella Zambello, assessora alle politiche sociali, Luisa Catozzo, assessora all'innovazione, Dina Merlo, assessora allo sviluppo sostenibile e Nadia Romeo, presidente del Consiglio Comunale, attraverso il video di Rovigo in diretta hanno rivolto i propri auguri a tutte le donne del territorio.